artpod ascolti d'arte dalla collezione maramotti una collaborazione con doppio zero osvaldo licini a malassunta 1 1949 scritto di gabriella caramore una luna bianca quasi impastata di gesso simile a quella chiara materia incerta che si vedrà vent'anni dopo nelle immagini del primo allunaggio ma che qui ancora conserva tutta l'allusività stregata del mistero inviolato il volto un po attonito di un'antica dama sdegnosa con due corni che si allungano in forma di mani alate una che lambisce l'estremo della tela in alto l'altra protesa verso il piccolo cuore offerto da una mano graziosa giù in basso nell'estremo angolo sinistro del quadro ancora a sinistra in alto quasi a compensare la solitudine della luna nel manto blu della notte macchiato di oscurità una sghemba stella a cinque punte dello stesso colore di gesso senza alcuna pretesa di sfolgorante scintillio questa la malassunta 1 esposta per la prima volta alla biennale di venezia del 1950 assieme ad altre otto a malassunte quasi a inaugurare dopo il lungo silenzio degli anni di guerra un nuovo inizio nella pittura di osvaldo licini i personaggi le ammalassunte gli angeli ribelli gli olandesi volanti popolano ormai le sue visioni e le sue tele ritiratosi nella casa di famiglia di monte vidon corrado immersa nel quieto paesaggio marchigiano la casa in cui era nato e dove era cresciuto affidato alle cure del nonno si lascia lavorare dai pensieri forti nuovi ribollenti la sera la notte sostava a lungo sull'altana della casa a interrogare le profondità della terra e le vastità dei cieli i profili delle colline e il giallo e il verde dei campi in ascolto del cuore umano e del cuore del mondo ed ecco sua compagna la luna e gli angeli e le figure in volo ma perché quel nome a malassunta innumerevoli spiegazioni sono state fornite c'è dentro quel nome la figlia del re ostrogoto teodorico per poco tempo anch'essa origina come tutrice del figlio alarico presto assassinata nell'isola di martana sul lago di bolsena una regina che lo aveva incantato fin da bambino e poi certamente in quel nome vi anche l'eco del dogma dell'assunzione proclamato nel 1950 il male assieme all'assunta è un chiasmo che non poteva non intrigare licini accanito nel cercare il lato nascosto delle cose ma alla fine al di là di troppa filologia è licini stesso che svela l'intima essenza delle sue lune a malassunta è la luna nostra bella garantita ad argento per l'eternità personificata in poche parole amica di ogni cuore un poco stanco poche le parole per dirla l'argento che buca la soglia dell'eterno chinandosi sul cuore di chi è un poco stanco anche leopardi su cui licini aveva in mente un grande lavoro nella sua recanati non molto lontana da monte di don corrado osservava la luna dietro le stesse colline a dar luce agli stessi paesaggi talvolta confidente e amica tal'altra distante e muta o ancora beffarda giudice della terra ma in una giovanile storia dell'astronomia la definisce capace di recar soccorso all'uomo che veglia e incapace di recar molestia all'uomo che riposa per entrambi un ponte di consolazione tra il terrestre e l'ignoto ma c'è qualcos'altro che sembra unire il poeta di recanati e il pittore di monte vi don corrado nelle tele e nei disegni del primo periodo fino più o meno a tutti gli anni venti con fedeltà pari a quella del suo amico morandi verso le sue nature morte licini dipinge i paesaggi della sua terra colline villaggi scorci di paese marchigiani un albero un borgo una casa come la siepe leopardiana profili che separano il contingente e l'immenso in una seconda fase della sua ricerca più o meno gli anni trenta licini entra in dialettica con i movimenti surrealisti presenti in tutta europa affascinato e attratto da varie forme di astrattismo comincia a dubitare come lui stesso scrive ad un amico che un'altra realtà si nasconda dietro quella visibile delle cose inizia così quello che lui stesso chiama un surrealismo personale una svolta astratto geometrica per cominciare a individuare il nesso tra il caos del soggetto e l'ordine dell'universo geometrie rigorose colori definiti linee che rimandano un tentativo di definire l'origine e la fine poi il silenzio negli anni della seconda guerra mondiale appassionato del mondo reale non meno che della raffigurazione pittorica sarà per due mandati sindaco del suo paese è scosso dalle vicende che percorrono l'europa lui stesso aveva conosciuta l'insensata carneficina della prima guerra mondiale da cui era tornato ferito in quel periodo decide di non mostrare di non esporre e di non vendere per tutta la durata della guerra ma il suo non è un silenzio inerte arreso ti scrivo dalle viscere della terra la regione delle madri forse dove sono disceso per conservare in columi alcuni valori immateriali non convertibili certo che appartengono al dominio dello spirito umano in questa profondità ancora verde la landa dell'originario forse io cercherò di recuperare il segreto primitivo del nostro significato nel cosmo cessato il pericolo riapparirò alla superficie con la diafanità sovraessenziale e senza ombra solo allora potrò mostrarti le mie prede i segni rari che non hanno nome alfabeti e scritture enigmatiche rappresentazioni totemiche che solo tu con la tua scienza potrai decifrare così scrive il primo febbraio 1941 a franco ciliberti fondatore del movimento primordialista che sarà nuova fonte di ispirazione perlicini vivere allora andare al di là di noi stessi trascendersi ecco perché ancora viviamo con questa speranza scrive nel 1943 sicuro niente è finito tutto deve ricominciare dopo la dissoluzione il rinnovamento per avvicinarsi alla verità occorre trasfigurare il mondo ecco allora le figure fantastiche in volo nell'aria sospese nel cielo ecco le ama l'assunte questo astro spento e vivo al tempo stesso che appare sotto mille volti mutevoli come mutevole è l'universo dopo lo sbarco sulla luna del 20 luglio 1969 ebbe inizio un grande dibattere tra scrittori artisti filosofi se quella visione così ravvicinata del freddo astro lunare non avesse raggelato anche la fascinazione umana per il cosmo non ne avesse mostrato il lato oscuro degli interessi politici e dello sfruttamento economico indebolendo nell'attrattiva per i poeti e i visionari ma a me sembra e l'attenzione per la ricerca scientifica cresciuta di smisura in quegli anni lo testimonia che i piccoli e grandi passi compiuti dalla conoscenza non facciano altro che incrementare il desiderio di inoltrarsi nei misteri delle galassie sconfinate la malassunta di osvaldo licini come le tante lune raccontate dipinte e cantate non ha perso l'incanto con cui la guardava il suo creatore al contrario ci attira a sé nel desiderio di recuperare il segreto primitivo del nostro significato nel cosmo un'iniziativa con il sostegno di max mara la lettura è di ermanna montanari del teatro delle albe la lettura è di ero Grazie a tutti.